I grandi assenti della manovra sono invece la ricerca, l'innovazione e il mezzogiorno. Sotto il primo profilo rileva il mancato rafforzamento del credito d'imposta introdotto con la legge di stabilità 2015, che è invece indispensabile per favorire gli investimenti di imprese nazionali ed estere. In particolare vanno superate le criticità relative a efficacia limitata nel tempo, modalità di calcolo incrementale del beneficio, esclusione di alcuni costi fondamentali per le attività di ricerca e sviluppo, applicabilità a contratti di ricerca commissionati da soggetti non residenti. Va inoltre sottolineato che a quasi un anno dalla sua introduzione non è ancora utilizzabile dalle imprese il patent box, perché mancano gli ultimi provvedimenti che ne consentono l'accesso e per le incertezze impretitative che non ancora risolte.